Adesso guarda queste unghie, sono così belle adesso, non ci credo quasi, due settimane fa soltanto, erano così fragili, si rompevano ad ogni due per tre, adesso sono così forti, quasi non ci credo, wow, fantastico, e i miei capelli sono così belli, mi sembra che i capelli stiano oscurendosi. Lei vuole avere i capelli grigi? Sì, io voglio avere i capelli grigi, li voglio grigi e basta, non ho mai colorato i capelli, ho 56 anni, non ho mai colorato i miei capelli, il mio fratello gemello è completamente bianco in testa, io non ho mai fatto niente per i capelli, però mi sembra veramente che si stiano oscurendo, e niente, fantastico, però la mia testimonianza più bella è il mio sorriso. Avevo la paralisi di Belle circa un anno fa, il 23, il 23 di maggio sarà un anno, e ho ancora un pelino nell'occhio sinistro che è un po' socchiuso quando sorrido. Non so se ritornerà come prima, però il mio sorriso, il mio sorriso è tornato, e questo veramente mi emoziono molto quando ci penso, perché, insomma, è una benedizione. Perché avevo l'X39 e l'ho messo sulla guancia, e appena l'ho misi sentì un tintinnio nella guancia, sembrava veramente che qualcosa stesse attivandosi, come un dispositivo, non so come dire, l'energia che usciva. Mi dissi, oh mamma mia, sembra che funzioni questa cosa. Era come un esercizio fisico per la mia guancia, solo per due ore, l'ho misi solo per due ore la prima volta. Sentì i muscoli che si muovevano, insomma, wow, è proprio fantastico. E so che funziona, insomma. E so che funziona, insomma.